Il sole si è appena alzato ad illuminare una splendida giornata dei nostri protagonisti. Chiara, una donna dinamica e moderna, e Luca, un uomo attivo e trendy. Entrambi hanno scelto di indossare Transition Extractive, le nuove lenti dinamiche per uso quotidiano, che diventano extra scure all'aperto, anche a temperature elevate. Chiara è un agente immobiliare, ed è sempre in movimento. È spesso in macchina tra l'ufficio e gli appuntamenti con i clienti. Per questo ha scelto le innovative lenti Extractive. Le prime tra le lenti dinamiche Transition, che diventano moderatamente scure, anche in auto, perché si attivano sia con la luce visibile che con i raggi UV, scurendosi fino a classe 2 anche dietro il parabrez. Per ogni ora passata in esterni a mostrare le abitazioni, un'altra viene spesa in agenzia, dove è importante il comfort visivo per vedere le fotografie e coglierne i particolari. Chiara preferisce le nuove Transition Extractive, dotate di una tinta chiara in interni, mentre la sua cliente indossa le Transition 6, completamente limpide al chiuso. Seguiamo Chiara e i suoi clienti nella visita della casa che hanno scelto. Spaziosa e accogliente. Questa casa sembra perfetta anche da fuori. La bella giornata illumina il giardino. Il sole splende mettendo in risalto la villa, ma affatica gli occhi non protetti. Le lenti Transition si attivano velocemente. Le Extractive di Chiara diventano molto scure all'aperto, mentre le Transition 6 della sua cliente si scuriscono moderatamente. Anche al tramonto, Chiara e Luca indossano le loro lenti Transition Extractive, che si sono adattate ad ogni condizione di luce e hanno loro garantito un comfort visivo per tutto il giorno. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS